musica 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 ok quindi benvenuti a casa io sono Jesus e oggi ripetiamo con megamaster force 3 black ace ragazzi sono contento perchè per luna c'è una speranza quindi dobbiamo andare dall'oha non mi ricordo più chiediamo meglio frammenti dei dati di luna sparsi in giro bah chiedi a quelli d'orzio di asio ok ok finissimo ok non lo so se devo andare dall'oha perchè non me lo vuole dire vediamo un attimo forse intendeva con questo si parlare con questo sono stato informato della situazione ma che ti conduce dall'oha? si ricevuto ci dirigiamo dall'oha ok velocità istantanea teletrasporto meglio di Goku ok vediamo un attimo frammenti dei dati di luna si ho capito che l'ho di acid però allora questo è il primo luogo dove ricerchi frammenti di uno segnale agganciato ok dov'è? dov'è? no io ho letto io ho visto una cosa che non pensavo qua oggi è un gran giorno per cavallare onde facendo surf scusa mi posso farti una domanda hai visto un pezzo di dati dell'aspetto raro in quest'area? mi dispiace non ho visto nulla sei sicuro? ho... ho detto no capito ok fermo dove sei sto arrivando all'energia di luna plazzo proveniente da questo wizard aspetta un minuto cosa ti porta fra queste false affermazioni su di me? molto bene vorresti farci il favore di accompagnarci al quartiere della Satella? io avrei molto tempo a tua disposizione per convincersi della tua innocenza se scopriremo che hai qualche dati con te verrai arrestato per il furto o detenzione di materiale rubato eh? siete dalla polizia di Satella? ehi non volevo... non parlo con voi ecco prendete i dati sono stati recuperati già ricevo l'una frammento di oh mio dio che cosa è tutto quel gran parlare di furto arresto o detenzione di materiale rubato non sono un avvocato perciò non so bene a cosa si riferisse ma ad ogni modo hai fatto un buon lavoro ah so ghignato ok eh acid non vale barare lo sai vero? ok si l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato eccolo lì prendiamo a caso ok frammento 5 che avrò mai immaginato che non ho trovato un posto del genere eh eh sono quello che li ho trovati giusto? a dire il vero sono io che li ho localizzati per primo cosa? acid non ci sono altri pezzi di dati rimasti in quest'area continuiamo la ricerca in un'altra area ok già che siamo sulla strada onda continuiamo per di qua vediamo se c'è qualcosa qua li sento ce li ho attaccati ehi guarda qui c'è qualcosa che luccica non c'è dubbio dati luna plazzo sono stati riassemblati luna frammento B Gio bel lavoro li abbiamo trovati grazie grazie a te acid ok vediamo se c'è qualcosa ah niente e beh allora allora il castello va vediamo se mi dice qualcosa vediamo se mi dice qualcosa ricerca frammenti unico niente non so dove cercare beh tentiamo dovrebbero essere cinque i frammenti se non sbaglio dal contenitore vediamo un attimo si dovrebbero essere cinque decisamente vediamo vediamo se qua c'è qualcosa si c'è un ping ma è tipo lontanissimo ah no ce l'ha lui si ce l'ha lui salviamo si perchè questi qua mi hanno già mi hanno già fatto buttare ho sentito solo io si si oh mio dio è la voce di acid è la voce di acid che figata cosa? polizista della cosi gli hai dato in tutto sesso cosa ti fa credere che farà ciò che mi hai ordinato eh perfetto certo voglio lottare ma uno che si arrenda pacificamente no? no vero? e l'ho mancato e l'ho mancato e lui tira granate a caso e mi frisse porca miseria potrebbe essere più difficile di quanto pensassi no prenderai il pesce con questo oh oh ho fatto giù mi invece? ho tatuus fire bellissimo perfetto così ci siamo ragazzi ci siamo ci siamo no 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 perchè mi vogliono così male? forse c'è che ho prenderlo però no lo spada lunga non c'è ah no l'ho preso l'ho preso perchè ha fatto una scena si appiccina ho cino swing cino swing se non sono sugli attori non ho la mia mia idea proviamolo si funziona si funziona perfetto non dico niente perfetto ragazzi poteva andare a penchio invece siamo andati piuttosto bene eh ah tocca a te acid ricevuto mega mano tiene uno frammento F no ce ne sono ancora di frammenti dati ottenuti sono 6 prez tieni duro prez non ti deruderò sono usata per la frase di acid quella dati ottenuti non ci sono altre tracce in quest'area cerchiamo in un'area differente ah no ci sono attaccato ah c'è la Lerz cosa posso fare per te? scusami potrei dare un'occhiata a quella cosa luccicante sulla tua testa? cos'è tutta questa storia? vuoi che vado a chiamare la polizia? hai chiamato? si ho chiamato questo tipo è maleducato ho cercato di... polizia? polizia? che ci fa la polizia se te la qui? che so se quei dati che ho trovato carini c'entrino con questa storia allora sei in possesso dei dati? consegnaci subito quel pezzo di prezzo ok ok eccolo qui ah ops no tu furfante cosa intendevi fare? cos'è? ops cosa? mi hai tirato da sotto virus come ho? cos'è? ufff corta miseria è molto più cattivo al piatto questo 8-9 PS dai 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 Perfetto! Abbiamo trovato un pezzo di luna, dimmi che l'ultimo è in quest'area. Non sono presenti altri pezzi di dati nell'area, no perché... Continuiamo la ricerca in un'area differente. Dov'è? Forse sto sbagliando in direzione, magari più giù. È aumentato. È aumentato il segnale ragazzi. È aumentato il segnale. È aumentato il segnale. Ok, ci siamo vicissimi. Ok, ok, l'ho bentornato, l'ho bentornato. Lì, alla macchinetta. Ho scoperto, ok, l'uomo è fermentato, bene! Ce l'abbiamo fatta! Oh! Cosa c'è? Ehm... Oh! Che stai facendo, Zack? Non fare stare in humor, mi fa entrare fuori di testa. Scusami, ma... Ehm... È solo che ho avuto un brutto presentimento. Un brutto presentimento? Sì, ho la sensazione che sia per succedere qualcosa. Piantala, Zack! Non diresti questo genere di cose se non fossi un tale fifone. Ma... Non posso controllarmi dall'avere queste brutte sensazioni. Ehm... Sì, capisco. Ad ogni modo, Geo Acid e Omega Xyz sono in ritardo. Esdi dice che tutto sta procedendo bene. Ehm... Ehm... Cosa c'è? No? Wow! Ehm... 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 Cosa c'è? Ehm... Cosa c'è? C'è un errore da principianti Sembra lui ma Sono ritornati? Ehi Aspetta Bud Andiamo Zack Ok Ma Allora Fermi un attimino Ehi Omega X6 Fermi un attimino Un solo attimo Ha Mega i colori spiattiti E non ci sono io? Che c'è? Perché te ne stai limbalato? Perché sei solo Ti è venuto a fame? Bud Sai che non è possibile Dov'è Gio? Omega X6 Perché sei solo? Ok È strano Sonia attenta Eh? Non è Omega X6 È una copia Ah Una copia? Ah Sonia Ah ah Si è trasformato il penitec Fai parte del dealer? Sei molto coraggioso eh? Venire qui tutto da solo Sonia Non serve preoccuparsi Me ne occupo io Stiamoci da fare Dai va E quelli Laggiù Sonia Dopotutto sembra che non sia venuto da solo Oh Che Ah sono anche disponibili in colori diversi Ah mi sono 4 Capirai Perché Perché io parlo? Perché? Ma che Fuori c'è uno sciolo di Omega X6 A dire il vero Nessuno di loro è Omega X6 Secondo la di Goddall sono semplicemente delle copie È possibile che sia l'arma del dealer? L'arma del dealer? Questo avrebbe senso È meno difficoltoso coprire qualcosa invece che crearla Ad ogni modo creare così tante Così tante sarà stata un'impresa Oh cavolo Il numero dei wizard nemici sta aumentando Ma non riesco a distinguere la frequenza dei singoli nemici Sembra Che abbiano tutti la stessa La stessa frequenza di Omega X6 Quindi dovrebbero avere tutti lo stesso livello di forza Non sarà divertente Per il momento tutto ciò che possiamo fare è impedire che facciano rivoluzioni Di spiegare la prima unità Evacuare tutti i civili Dello staff della Waza Sì signore Se Assisi fosse qui avremmo potuto rilevarli in tempo Credo che sia quanto inutile stare a tersi Che sarebbe successo se Arthur Sembra che ci troviamo in una situazione specifiche Sì Ebbene C'è niente che possiamo fare? A dire il vero c'è Visto che i nemici sono essere M Potremmo usare quello Per quello intende Il soppressore di rumore? Quella cosa non deve ancora essere testata? Ed oltre a questo non è top secret Non riusciremo mai a provarlo Se il quad generale viene depredato Il dispositivo è distrutto Penso che il rischio valga la posta in palio Non credi? Sì capisco Quanto tempo ci impiegherà per essere pronto? Un'eternità si ha se tu non torno ad aiutarci Una volta che sarà tornato Potremo analizzare i dati della copia di Mangers Per alterare il programma Le soppressore di rumore In modo da poterlo utilizzare su di nuovo Doc Dove si trova adesso? Nella sala del computer principale? Ok Cerchi di non muoversi di lui Cercherà di guadagnare tempo Mentre inizia a preparare le soppressore di rumore Ok Ma non esagerare Beee Sembra che sia giusto Il tempo per il debutto Dell'eroe della giustizia Wow Si definisce così? Oltretutto che figa la guazza Ah ho capito perché è al 57esimo piano adesso Continuano ad arrivare Così sembra Di questo passo non lo finiremo mai Di spiegare la prima unità Tutta la truppa di Wizard Lotta In posizione Sono felice di vedervi qui ragazzi Grazie per averli tenuti occupati Fino al nostro arrivo Ah ecco Asin E Ace Che confusione Scusate Budezak Voi due sarete molto più sicuro dentro Vero? Ok Grazie Perfetto Attivate lo scudo OR OR Cos'è? Ok Bello scudo Immagino che si tratta di una barriera Composta da onde reali Vero? Ah OR in quel senso Wow che figata Voi due La coda si trova nella sala computer principale Andate lì È un posto molto più sicuro di questo Aspetta Ace Posso combattere con voi Giusto Taurus E per Dio Possiamo fare il tifo Forza Non mollate Capisco Grazie In questo caso Perché non andate a proteggere la tutoressa Goddan? Non c'era una di più importante al momento Potete riuscirci? Naturalmente La terrò sicuro Lascia fare a me Possiamo farcela Mi sono accettata Grande Ace è un mito ragazzi Ha saputo Indirizzare Budezak Sai che da mani ducati Far aspettare una signora? Un eroe entra in scena al momento giusto E così che si fa Ma da ogni modo Non sapevo che foste così potenti Sono stupito Ti dispiace di aiutarmi per un altro po' Dobbiamo andare allo Goddan il più tempo possibile E per farlo ci serve il tuo aiuto Naturalmente Naturale che ti daremo una mano Giusto Lyra? Immagino che non possa dire di no Se in una situazione del genere Ad ogni modo Dov'è l'altro nostro amico Roy? Bella domanda Ho richiamato Acid E sta tornando E sta già aiutando la dottoressa Spero che Gia e il suo amico Blue Turnino presto Un eroe entra in scena al momento giusto Vero? Ah ah Esattamente Lo spero tanto Poco prima Mi dispiace ragazzi Ma per oggi ci fermiamo qua Quindi se vi è piaciuto lasciate un commento Mettete un piacere Iscrivetevi E non ci vediamo nel prossimo video Bella ragazzi Ah ok Oh no 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 Via 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 Come siamo? In mezzo Sotto su Sotto grigli Gast 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 Se spegne il portiere Siamo fottuti Può spegnerlo Sì sì L'ho spegno Sì Gast spara amici Gast sono qua Aspetta Tu vai via Io mi faccio spare dai gast Perché? Così muori No devi riaccenderlo Sì ho capito Ragazzi ce l'abbiamo più iniziato Cioè a me non sta spara Ma ce ne spawna in tutto? Sì E c'è spawnato Davanti